Neanche le schede bianche, che pure sono state la maggioranza, hanno raggiunto il quorum. La diciottesima votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere i due giudici della consulta e il membro laico del CSM si è risolta in un put purì di nomi e provocazioni. La più plateale è quella della Lega, che alla Camera ha distribuito Santini con la scritta «Per il bene del Senato, vota e fai votare Pietro Grasso alla Corte Costituzionale». E 94 parlamentari, tra leghisti e pentastellati, hanno seguito l'indicazione. Tant'è che il presidente Grasso è stato il più votato. A seguire è Donato Bruno, ormai non più in corsa ad alcune sedute, che ha incassato 27 voti. 22 i voti per Lorenza Carlassare, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Padova e 22 per Luciano Violante. Va detto a questo proposito che PD, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, sin dalla prima mattinata, avevano fatto già re-sms con l'invito a votare scheda bianca. Infatti le schede bianche sono state 524, le nulle 37, 36 i voti dispersi. Domani mattina ennesima votazione, la diciannovesima.